Questo Racing Podcast non volevo farlo, in teoria ero impegnato anche nella giornata odierna nel torneo di softball di Bollate, ma appunto essendo rientrato prima complici i piazzamenti della mia squadra ho visto il Gran Premio di Monaco e di conseguenza questo Racing Podcast bisogna farlo per due motivi. In primis vince Charles Leclerc ed è finalmente un grande ritorno alla vittoria per il pilota monegasco, in secondis spezziamo una maledizione perché le uniche gare di cui non ho parlato sul mio canale erano quelle dove non aveva vinto evidentemente Verstappen, parliamo delle vittorie di Sainz e di Norris, il GP di Monaco l'ho visto e ha vinto Charles Leclerc nella gara classica di Monte Carlo, ovvero si parte nelle posizioni della qualificazione e si arriva esattamente in quest'ordine, una gara che però comunque a qualche spunto lo ha lasciato. Appunto non per la gara in sé, tranne l'episodio del primo giro di cui tra poco parleremo, ma appunto di quello che significa la vittoria di Leclerc, il campionato costruttori è totalmente riaperto, complice a un Red Bull che ha fatto veramente fatica come a Singapore lo scorso anno, Leclerc è almeno 31 da Verstappen, ha detto che il campionato piloti secondo me è ancora a pannaggio dell'olandese, ma soprattutto abbiamo la prima vittoria di un monegasco a Monaco dopo tante tante sfortune. Ma per capire come sia arrivata la vittoria di Charles Leclerc analizziamo però tutta la gara nell'insieme, ha detto che gli episodi chiave sono in realtà un paio. Il primo è un grande episodio che per fortuna vede i piloti coinvolti tutti illesi ed è l'incidente del primo giro che causa una bandiera rossa, ovviamente dovuto a un triplice contatto tra le due Haas e Sergio Perez. Ora, come sono finite in contatto le due Haas e Sergio Perez? Molto semplice, la qualificazione di Monte Carlo ha squalificato le due Haas per un DRS irregolare, di conseguenza Magnussen e Ulkeberg partivano dal diciannovesimo e ventesimo, Perez invece non ha avuto nessun tipo di problema se non una grande difficoltà di adattamento come in realtà tutta la Red Bull, ma Perez addirittura è arrivato fuori in Q1, diciottesimo qualificato il messicano. Va detto però che appunto anche tutta la Red Bull ha avuto tanta fatica perché Verstappen si è qualificato solo sesto e per i standard di quest'anno il paio tolandese ha veramente sottoperformato. Si arriva di fatto al primo giro, alla curva che immette nel Casinò, una delle due Haas, quella di K-Mag tampona Perez che si schianta a velocità spropositata al muro, in realtà battendo prima da una parte e poi dall'altra Ulkeberg che cerca di evitare il messicano ma non può evitare l'impatto, di conseguenza bandiera rossa alla vettura di Perez e nelle condizioni che vedete nell'immagine le due Haas vengono anche loro ritirate per eccessivi danni e questo causa una bandiera rossa di praticamente 50 minuti. Si riparte di fatto con la stessa griglia di partenza e qui c'è un altro episodio molto importante riguardo alla Ferrari perché Carlos Sainz ha avuto un problema anche lui in partenza, si è dovuto ritirare nel primo giro ma appunto essendo che per regolamento il primo giro non è stato completato Sainz ha potuto ripartire in terza posizione e appunto arrivare esattamente come è giunto quindi in terza posizione. Una gara che comunque dicevamo prima vede la vittoria di una Ferrari e torna alla vittoria Charles Leclerc. Charles Leclerc che partiva in pole position per la ventisesima volta in carriera e vince soltanto però per la sesta volta. Leclerc non vinceva dal 2022 anno in cui si giocava il mondiale con Verstappen e questa vittoria però ha un significato veramente extra pista perché sappiamo che Leclerc è di Monaco, appunto batte bandiera monegasca, nessun pilota di Monaco ha mai vinto prima di oggi nel GP di casa e l'unico podio di un pilota di Monaco ha capitò nel 1950 edizione numero uno della formula, non è da lì poi ovviamente mai più, ovvio che lo stato del Principato ha un pacifico di utenza molto ridotto, non è la Francia che comunque di piloti ne ha avuti tantissimi e anche di un certo livello, ma a Monaco parliamo di uno stato di 39.000 abitanti quindi veramente tanto poco. Però comunque Leclerc ci teneva a vincere nella terra dove è cresciuto, dove in realtà in passato ha avuto tantissime sfortune, ovviamente ci ricordiamo tutti quando partì in pole position e poi non partì la domenica per un problema, oltre che ovviamente altre prestazioni deludenti come un'eliminazione in cuno prematura con dei sorpassi anche azzardati e dei ritiri forzando la mano. Insomma per una balla o per l'altra Leclerc non ha mai vinto a Monaco, lo fa oggi davanti alla McLaren e all'altra Ferrari. Di fatto tolta la Red Bull che evidentemente ha sottoperformato sono venuti fuori i valori di questo campionato, quindi Verstappen, Uber Alice, ma lo sappiamo, ma quando non c'è Verstappen le Ferrari e le McLaren se la giocano assolutamente. Tanto è vero che anche in questa gara Leclerc primo Ferrari, Piastri secondo McLaren, Sainz terzo Ferrari, quarto Norris McLaren. Per la sesta volta in carriera e per la prima volta quest'anno suona l'inno nazionale Monegasco con la banda di Monaco che fa risuonare l'inno per il proprio Benaminio che dunque si toglie veramente un gran peso per una classifica del campionato mondiale che comunque è indirizzata verso Verstappen che ha 31 punti di vantaggio, ma comunque vedere Leclerc vincere dopo 8 gare comunque in stagione e nella sua terra fa veramente tanto piacere in generale per lui e per tutti i suoi tifosi, oltre che a me che comunque a me Leclerc sta tanto simpatico. Comunque c'è 28 punti per il Monegasco che comunque guadagna a qualche punto rispetto a Verstappen ma attenzione perché anche secondo me in questo caso Monaco può rappresentare la Singapore dello scorso anno quindi una difficoltà di attamento di questa Red Bull è un'eccezione, un po' come Melbourne in realtà e quindi dalle altre piste Verstappen potrà tornare comunque a dominare. Sono finalmente però contento di parlare di una vittoria di non Max Verstappen ma appunto di Charles Leclerc. In seconda posizione appunto Oscar Piastri, terzo invece Carlos Sainz e aveva tutti gli altri. In quarta posizione Lando Norris con la seconda McLaren, in quinta posizione George Russell con una Mercedes che comunque ha sfruttato bene il giro secco. Sesto Max Verstappen che comunque è sempre il leader del campionato in un mondiale che vincerà lui. In settima posizione abbiamo Louis Hamilton che si toglie il lusso, comunque la soddisfazione del giro veloce in gara. Ottavo per quanto riguarda la gara di Monaco è Yuki Tsunoda, comunque in crescita il pilota giapponese. In queste ultime tre gare è sempre a punti, quindi tanta roba. Sorprendono invece i piazzamenti della nona decima posizione perché finalmente arrivano punti per quel cesso di macchina che è la Williams e ovviamente non potrebbero anche arrivare da Alexander Albon. Bravissimo a sfruttare la qualificazione e a difendere la nona posizione in gara. E decimo Pierre Gasly per un Alpine che qualche punto allora cimola. In questo momento l'unica squadra senza punti nel campionato costruttori è la Sauber che comunque anche a Monaco ha fatto oltremodo fatica. È comunque una gara di Monaco che è stata standard, quindi una gara palesemente noiosa senza praticamente un sorpasso. A meno che tu non ti chiami logo al Sergent e allora lì possono passare tutti anche i cani. Veramente gli unici sorpassi sono stati quelli subiti da Sergent che poi è stato bravo in realtà a rispondere a Guagno Gio che è arrivato ultimo. Sergent per questa volta è arrivato penultimo ma cambia veramente poco. È ancora una volta una gara standard dove a Monaco la qualificazione conta il 99.9% periodico di tutto il weekend. È una pista troppo corta, è una pista dove le strategie non funzionano in generale perché se fai overcut e undercut vai nel traffico e tendenzialmente si arriva esattamente come si è partiti, esattamente come è capitato in quest'ordine. Le posizioni che abbiamo visto dalla prima di fatto alla decima, non per qualche variazione qui e lì, sono bene o male le prime dieci posizioni della Q3. Anche perché poi dopo ovviamente non è capitato nulla per 75 giri. Il grande episodio è arrivato al Giro 1 e per il resto è la solita gara di Monaco. Peraltro in una gara particolare da un certo punto di vista, e questo è l'ultimo spunto del video di questo Racing Podcast che per una volta non parlerà di Formula 2 e Formula 3 che hanno corso in contemporanea nel Principato del Monaco ma quelle gare non le ho viste, appunto siccome c'è stata bandiera rossa dal Giro 1 al Giro 3 i primi quattro piloti hanno approfittato di questa bandiera rossa per cambiare gomme e quindi passare da mescola media a mescola dura. Da qui in poi i primi quattro, quindi Leclerc, Piastri, Sainz e Norris non si sono mai fermati ma per non fermarsi mai era importante gestire ovviamente le gomme. Vi faccio una comparativa con questo dato. La qualificazione è venuta via, con gomme morbide ovviamente, sul passo dell'1-10 basso. Ebbene nei primissimi giri di gara, in realtà per il primo terzo di gara abbondante i primi quattro piloti giravano in 1-20, 10 secondi più lenti della qualificazione per preservare le gomme, per arrivare fino in fondo, per non fare nessuna sosta. Il che voleva dire che tanti piloti facevano l'elastico quindi magari l'inseguitore arrivava a mezzo secondo, 4 decimi ma ovviamente a Monaco non si può superare se non in condizioni molto particolari e di conseguenza era impossibile per il pilota dietro arrivare a sferrare un attacco anche perché anche il pilota dietro era in gestione e di conseguenza poi non poteva forzare più di tanto anche perché stando poi troppo davanti alla macchina che ti segue ovviamente l'aria poi calda ti arriva dietro riesce ovviamente a sottoperformare quindi devi fermarti e perdi tempo insomma una gara particolare che solo a Monaco poteva capitare insomma non è stata una gara indimenticabile per quello che è successo in pista anzi tendenzialmente la classificerei come gara orrenda e noiosa come il 96% delle gare di Monaco ma comunque qualcosa extra pista è successo e quindi per la storia, per le statistiche e per un campionato con strutture riaperto ovviamente la vittoria di Leclerc che è stato posto di Sainz è fondamentale perché dico campionato costruttori riaperto perché la Ferrari ha chance evidentemente essendo una buona squadra su due punte di puntare a quel titolo lì quello piloti si fa un po' più di fatica perché Verstappen con pista tradizionale tornerà a vincere dal mio punto di vedere però appunto un campionato costruttori dove la Ferrari fa primo e terzo e la Red Bull sottoperforma con Verstappen qui solo sesto Perez la gara in realtà non ha neanche corsa ma non avrebbe fatto punti lo stesso perché era partito veramente indietrissimo può essere un grandissimo viatico per il futuro della Ferrari per guadagnare il titolo costruttore del 2024 Monaco sarà stato forse un campionato nuovo di Formula 1? probabilmente no ma abbiamo visto che in alcune condizioni può non vincere Verstappen e questa è una grande soddisfazione per questo 2024 fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente di questo Gran Premio di Monaco che dal mio punto di vista è stato abbastanza noioso se non totalmente per gli aspetti di qui sopra ma almeno finalmente commentiamo la vittoria di Charles Leclerc che dunque è ancora una volta o meglio per la prima volta profeta in patria e vince il suo campionato di casa sesta vittoria di carriera per il pilota di Monaco il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti